Perchè dobbiamo occuparci delle posizioni più alte in assoluto in questa Discomania Mix di 40 posti, dove in terza posizione abbiamo Jam & Spugna, con due canzoni, Ride in the Night and Find Me. I took a ride on a fairytale road, I lost my heart there once, now I want it back, I want it back. I thought that love isn't cool and dies, now I am the fool, cause it's not like that, now I feel regretting. Perchè 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 Musica Era ovvio però che fosse questa La numero uno Yeah Del 1994 Sebbene il disco sull'etichetta riporti un anno Che è il 1993 L'uscita esattamente non la ricordiamo Ma penso nel mese di dicembre Questo è in assoluto il disco più ballato La numero uno della Discomania I know you wanna say Oh, can you see all your pain Feel you can be loved again Round and round we go It's time I hear you sing This is the rhythm of the night The rhythm of the night This is the rhythm of my life My life Oh, yeah The rhythm of my life Won't you teach me how to live a live Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti